E così abbiamo arrivato, diciamo così abbiamo ottenuto questo sistema statico dell'eternità che però agisce proprio come un liquido perché si stende subito, si spande subito nell'universo. E quindi noi vediamo che il nostro prodotto si espande, si stende per tutta la realtà e in più tutti gli avvenimenti. Possiamo pure toccare questo pilotaggio mentalmente oppure diciamo così mentalmente toccare questo pilotaggio quindi con un dito. E poi vediamo che in questo caso questo pilotaggio è proprio questa eternità, è proprio come acqua perché ha delle proprietà simili. E quindi questa eternità è proprio come un liquido perché se la toccate vibra, vibra come l'acqua ad esempio però non perde le sue proprietà. Ad esempio quindi noi abbiamo identificato l'eternità in un avvenimento con il quale stiamo lavorando quindi adesso noi esaminiamo questa eternità. E noi vediamo anche le sue proprietà sono molto simili alle proprietà d'acqua. Vediamo che però questa eternità ottiene subito anche delle proprietà dinamiche, non è solo statica ma anche un pochino dinamica. Se ad esempio noi versiamo l'acqua sulla terra asciutta diciamo così, noi vediamo che l'acqua riesce a nutrire la terra però l'acqua comunque rimane acqua, l'acqua non perde le sue proprietà. E noi vediamo cosa sta succedendo in questo caso quindi ad esempio noi vediamo la realtà, ecco la realtà che si espande, diciamo così questa realtà che si espande e che va fino all'infinito. E vediamo cosa sta succedendo in questo caso. E noi vediamo che le proprietà dell'eternità e vediamo che l'eternità inizia a comportarsi proprio come l'acqua si comporta sulla terra. E vediamo che anche le proprietà dell'eternità sono molto simili alle proprietà dell'acqua quando l'acqua è sulla terra. E anche sul pianeta terra l'acqua è la fonte per la vita diciamo così di tutti gli esseri viventi diciamo così permette di mantenere la vita e permette di creare la vita anche. E noi vediamo che l'acqua che si trova sulla terra, questa acqua riflette le proprietà dell'eternità. E noi possiamo anche paragonare gli oggetti della realtà con l'aspetto diciamo così dell'eternità. Noi possiamo vedere come gli oggetti si vedono, come appaiono nell'eternità. Cosa che gli avvenimenti con i quali ci siamo sintonizzati noi vediamo che questi avvenimenti devono trasformarsi non soltanto a livello informativo. non soltanto diventare la norma quindi a livello informativo ma devono anche nella realtà devono essere trasformati e devono diventare normalizzati. E noi vediamo che quando abbiamo avvenimenti per la relazione ci sono realizzate la nostre aspettative ovoluzione all'eternità. e dopo che abbiamo identificato l'eternità, noi vediamo che i nostri avvenimenti iniziano a prendere le forze, a nutrirsi sempre con questa eternità e anche prendere le loro forze, diciamo così, sempre dall'eternità. E quindi in questo caso l'eternità è come una fonte d'acqua per gli avvenimenti.